È stata una regata molto combattuta sin dai primi giorni, abbiamo iniziato terzi il primo giorno, siamo scesi fino al sesto posto, siamo stati anche al primo posto, è stata una settimana ricca di emozioni e per noi soprattutto essere in mezzo a due medaglie olimpiche, a diversi equipaggi che hanno regatato alle Olimpiadi è stato un onore intanto e soprattutto una grande soddisfazione riuscire a navigare davanti a loro e a concludere prove davanti a loro e effettivamente a concludere questo campionato al secondo posto con una bellissima medal race di oggi che ci ha regalato delle emozioni. Vincere una medal race al mondiale assoluto è una cosa stupenda e con questo fare anche secondi ancora di più.